Un centinaio di iscritti fra cavalli e poni e almeno il triplo di spettatori in due giorni. Numeri importanti, quelli fatti registrare all'Hippo Park di Golf Aranci nel progetto Sport di Salto Ostacoli e la prima tappa Master Sardegna di dressage. Il doppio evento, organizzato da Piera Monti e Angelo Pala in collaborazione con Fise Sardegna e Comune, ha proposto un weekend di sport, promozione sportiva e relax per le famiglie. La struttura è stata sfruttata a pieno con i vari campi a disposizione che hanno permesso di svolgere velocemente ben 50 gare e di ricreare, nelle debite proporzioni, l'atmosfera dei grandi appuntamenti nazionali, con la possibilità di far divertire i più piccoli nell'area giochi, oltre che nella visita alle scuderie. La tappa del progetto ha permesso sia ai giovanissimi che ai più esperti di confrontarsi nelle varie categorie alla caccia della qualificazione alle fasi nazionali. Stesso obiettivo per il dressage, dove il binomio deve eseguire movimenti stabiliti come diagonali, circoli, linea di centro, alle varie andature, trotto e galoppo di lavoro, a mano destra e sinistra. I giudici esaminano la prova osservando seduta, posizione, uso degli aiuti, correttezza delle andature e naturalmente l'armonia della presentazione. Prossimo appuntamento a Golfaranci il 14 e 15 maggio, ancora col salto a ostacoli, con la tappa Agris numero 2 per Giovani Cavalli. La manifestazione fa parte del circuito promosso dall'Agenzia regionale Agris per valorizzare il cavallo sportivo.